La Castellano Udas, divisione nazionale C-Basket maschile, ha fatto sapere ufficialmente in una nota stampa alla nostra redazione sportiva l'arrivo a titolo provvisorio di Andrea Maggi, playmaker di 34 anni proveniente dal Molfetta, di origini goriziane ma con la pugliesità nel sangue dopo aver militato prima a Gorizia e poi a Trento dove ha conosciuto l'esperienza della Serie A nazionale. Maggi insieme al resto della squadra si radunerà per l'inizio del ritiro precampionato domani pomeriggio al Palasporta Nando Di Leo.